Caldo intenso, nelle marche il termometro resta alto per tutto il resto della settimana A Pesaro il caso della scultura, in compresa la rotatoria di Loreto Un anno col peschereccio affondato nel porto, Fano si prepara alla rimozione del relitto Infrastrutture e transizione green, Confindustria forma i tecnici del futuro Capitale al quadrato, Monbaroccio fra Guido Baldo, cultura contadina e arte del ricamo Buona serata a tutti voi amici e amici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News Telegiornale di martedì 16 luglio che apriamo occupandoci e aggiornandovi sull'ondata di AFA che sta continuando ad opprimere il territorio marchigiano Temperature alte e durature, visto che le previsioni meteo indicano che la situazione resterà tale per tutto il resto della settimana che si annuncia finora la più calda di questo 2024 Temperatura media che in questo mese di luglio è stata di 25,3 gradi E continua anche un'allerta a siccità all'orizzonte di precipitazioni non previste anche per i prossimi 7-10 giorni Una situazione in cui si moltiplicano le ordinanze comunali di risparmio idrico Dopo Pesaro e Fano anche Vallefoglie e Fossombrone hanno infatti emanato ordinanze volte al consumo responsabile e al sanzionamento di un utilizzo dell'acqua dell'acquedotto per usi diversi da quello alimentare e dell'igiene personale Ed oggi il nostro primo servizio è dedicato ad una curiosità che riguarda una nuova scultura molto particolare a Pesaro che sta facendo discutere Inaugurata lo scorso venerdì, spogliata di gran parte dei suoi elementi pochi giorni dopo In mezzo a una serie di interrogativi di chi transitava per Largo Madonna di Loreto e si è trovato di fronte a questa singolare installazione al centro della rotatoria In molti hanno pensato si trattasse di un cantiere piuttosto che di una scultura E invece è la cosiddetta stele flamine realizzata dall'artista Lomberto Pignotti con materiali quali tubi innocenti e teli che hanno interdetto molti cittadini sul fatto che appunto quella potesse essere una installazione artistica L'arte però, si sa, è per sua natura spiazzante, divisiva e manipolabile dagli inconvenienti come ha spiegato l'assessore Daniele Vimini Il progetto è un progetto affascinante, chiaramente diciamo un po' spiazzante nei materiali tubi innocenti, vele, in realtà vogliono all'inizio o alla fine per dove si vede da Pesaro, da Roma e della Flaminia riportare alcune parole chiave di Pesaro, di Roma ma anche del cosmo legate diciamo a un modo di vivere una strada che ha duemila anni di storia e qualcosa non ha funzionato dal punto di vista tecnico la struttura di palli innocenti è parte della scultura ma il problema da cui anche diciamo lo spaesamento comprensibilmente di alcuni cittadini è legato al fatto che le vele non hanno funzionato come si pensasse insomma, il tessuto forse è né troppo morbido né troppo rigido quindi insomma invece che fluttuare al vento o rimanere più rigidi si sono accartocciate, possiamo dire, nei pali è il motivo per cui oggi sono state smontate e verranno rimesse a brevissimo in maniera più leggibile quindi capiranno i tecnici e l'artista se con un materiale più rigido diciamo meno soggetto alle variazioni del vento oppure più morbido che quindi possa senza intrecciarsi nei pali che fanno parte della struttura essere cose naturalmente ci scusiamo un po' per il disagio in parte anche con l'artista che ovviamente ha disegnato l'opera ma meritava un'installazione tecnica che funzionasse siamo convinti che una volta ripristinata a giorni farà comunque discutere ma almeno lo farà nella forma che avevamo pensato e non in quella che ha avuto questo piccolo difetto di esecuzione da Pesaro a Fano per parlare di quella che da un anno è un'immagine poco decorosa del porto quella offerta da un peschereccio di fatto semi affondato da agosto scorso e che ora sta per essere finalmente rimosso da 11 mesi giace semi affondato nel porto di Fano costituendo intralcio alla navigazione e fornendo una cartolina poco decorosa del tratto di Darsena su Viale Adriatico ora il relitto del peschereccio Nettuno inabissatosi lo scorso agosto sta per essere rimosso lo ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco Luca Serfilippi in dialogo con la Capitaneria di Porto e le ditte incaricate di un'operazione che costerà 85.000 euro operazione che partirà dalla messa in sicurezza dell'area e dalle verifiche con i sommozzatori è prevista la chiusura al transito di Viale Adriatico per i quattro giorni pensati per completare l'opera di rimozione un'opera che partirà lunedì 22 luglio e punta a concludersi entro giovedì 25 periodo di quattro giorni in cui due autogru solleveranno il relitto del Nettuno per portarlo in asse di galleggiamento tale da essere rimorchiato e trascinato in secca alcune delle principali grandi aziende del territorio pesarese e fanese si mettono in rete per creare una formazione di giovani in un contesto lavorativo qualificato ed estremamente richiesto vediamo nuove opportunità di formazione e inserimento lavorativo a partire da ottobre Palazzo Marcolini a Fanno ospiterà un corso ITS per tecnico per le infrastrutture ed impianti tra progetti complessi e transizione ecologica corso organizzato dalle aziende Arco, Comis, Renco, Rina, Saipem e Tecfem e coordinato da Confindustria Peso Rubino e dalla fondazione ITS Academy il nostro ITS, la nostra fondazione che probabilmente è stato il primo ITS nelle Marche crede molto in questa collaborazione tra le aziende e appunto la formazione perché i ragazzi avranno l'opportunità di fare una formazione d'eccellenza proprio al fianco delle aziende che hanno bisogno di questo tipo di figura un programma di studi di due anni per 1800 ore di lezioni concepito per preparare giovani tecnici che saranno pronti a lavorare nelle imprese specializzate in ingegneria e costruzioni di grandi opere corso che risponde alle esigenze emerse da parte delle imprese che necessitano di figure altamente qualificate e di difficile reperimento un corso di formazione che si rivolge a tutti i ragazzi che escono dal percorso di studi superiore che vogliono approfondire un settore come quello delle infrastrutture energetiche nel quale appunto le aziende, gran parte delle aziende del gruppo energia e transizione ecologica del quale sono presidente in Confindustria Peso Urbino si rivolgono quindi materie che rasentano appunto una formazione ingegneristica di base tecnica comunque legata al mondo della produzione, del trasporto, stoccaggio e gestione quindi dell'energia e dei vettori energetici Questi ragazzi riceveranno un attestato che è riconosciuto dal Ministero Saranno appunto tecnici superiori per le infrastrutture nella meccatronica Probabilmente ci aspettiamo che molti di loro troveranno impiego molto presto perché lo dimostrano le percentuali che la nostra fondazione ha di impiego e saranno senz'altro immagino considerati tecnici d'eccellenza proprio perché il tipo di formazione che miriamo a fare è quello e lo facciamo con dei partner d'eccellenza appunto Cordoglio da parte del Comune di Pesero e della CGL Pesero Urbino per la scomparsa di Mario Maoloni ex dirigente e direttore dello stesso Comune di Pesero Ascolano di nascita Maoloni studiò ad Urbino e rimase a stabilirsi nel Pesarese dove fu per anni sindacalista politico e storico Ci occupiamo ora di politica Nel 2020 Francesca Frenquellucci con Matteo Ricci costruì a Pesero la prima alleanza fra PD e Movimento 5 Stelle a livello nazionale Un'alleanza che a Pesero dura tutt'ora e che secondo la stessa assessora può essere un modello esportabile nella prossima corsa alle elezioni regionali Ascoltiamo la stessa Frenquellucci intervistata da Teobaldo Bianchini Sicuramente il progetto che abbiamo fatto a Pesero, laboratorio politico partito quattro anni A fa ha funzionato e forse è giusto riproporlo anche a livello regionale è fondamentale che si porti avanti forse la stessa strategia abbiamo visto che dove la sinistra si unisce vince ricordo a tutti che lo scorso anno quindi anticipatamente avevo detto se andiamo tutti uniti vinceremo facilmente e così è stato quindi è fondamentale anche fare una strategia per la regione e portare avanti sicuramente lo stesso progetto che è partito da Pesero Pesero ha un po' anticipato anche il panorama nazionale quando lei è entrata all'interno della giunta Ricci inizialmente le critiche da parte del Movimento e poi in realtà tutti al seguito di Pesero a questo punto la regione diventa un test per ribadire magari l'importanza di quella che fu, quell'alleanza Sì esatto, sicuramente ancora qualcuno fa fatica a digerire quello che abbiamo fatto a Pesero però ci siamo riusciti, abbiamo portato degli obiettivi nella nostra città concretamente abbiamo aiutato i cittadini nel nostro territorio e i cittadini hanno risposto perché nel momento in cui noi ci siamo messi nella coalizione per candidato sindaco Andrea Biancani le abbiamo comunque aiutato, supportato, abbiamo spinto, abbiamo fatto squadra con tutta la parte del centro-sinistra e questo è stato un grande risultato perché i cittadini ci hanno premiato e hanno voluto che comunque una rappresentanza continuasse sia all'interno del Consiglio Comunale e a me mi ritrovate di nuovo in giunta Il suo rientro in giunta con comunque sia dei ruoli che già aveva avuto le dimostrano anche la fiducia del nuovo sindaco nel voler dare continuità a un progetto Sì, con il sindaco Andrea Biancani già avevamo lavorato anche con l'università mi aveva supportato quando lui era consigliere regionale quindi già dei progetti insieme avevamo fatto e poi comunque anche lui dalla spinta del sindaco Matteo Ricci aveva visto che comunque si era lavorato bene insieme c'era diciamo un rapporto di fiducia e soprattutto un rapporto concreto cosa che vedo molto con Andrea il quale mi trovo molto bene e speriamo ecco di continuare nello stesso modo Il progetto di promozione territoriale degli itinerari della bellezza salirà a 27 comuni nel 2025 Lo ha annunciato oggi la direttore di Covcommercio Marche Nord Amerigo Varotti ufficializzando con soddisfazione l'ingresso negli itinerari di Monte Cerignone e di San Costanzo Ed ora ci occupiamo di alcuni appuntamenti culturali di questa settimana a cominciare da un musical molto particolare La rassegna Mira al Teatro d'Estate è pronta ad ospitare nell'anfiteatro del Parco Miralfiore il nuovo musical Aladdin Sane L'appuntamento è per giovedì 18 luglio alle ore 21 e 15 con il sesto musical all'insegna di teatro e didattica musicale inclusiva realizzato attraverso la sinergia decennale fra cooperativa sociale T41A e l'associazione In Musica con la collaborazione dell'associazione Il Grillo d'Oro e il Centro Danza Performance adattamento testa e regia sono di Lorenzo Piscopiello e nel cast ci saranno i ragazzoni della cooperativa T41A con orchestra e coro dal vivo e coreografie originali saranno ben 100 le persone coinvolte nella realizzazione di una versione un po' folle del classico Aladdin in cui il tradizionale canovaccio narrativo deraglia in situazioni inattese e sorprendenti uno spettacolo all'insegna di un messaggio artistico che veicola l'inclusione pronto a divertire e sorprendere il pubblico domani alle 21 nel cortile di Palazzo Montani Antaldi si terrà l'ultimo appuntamento dell'undicesima edizione della rassegna di poesia Vaghe Stelle dell'Orsa organizzata dall'associazione Amici della Prosa e curata dalla poetessa pesarese Laura Corraducci domani le protagoniste saranno Eleonora Nitti Capone, giovane voce salentina e Sofia Carvaio, poetessa portoghese le cui liriche saranno lette anche in lingua originale la poetessa pesarese Lella De Marchi proporrà invece un omaggio a Patrizia Cavalli una delle voci più importanti della poesia italiana contemporanea la serata sarà trasmessa da Rossini TV e in diretta a Facebook sulla pagina dell'associazione Amici della Prosa e sempre domani alle 21.15 terzo appuntamento del festival organistico Vespri d'Organo a Cristo Re giunto quest'anno alla ventesima edizione e che domani si sposta a Monte Labate nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta protagonisti l'organista Gabriele Martini e il coro femminile Vittore Veneziani di Ferrara diretto da Teresa Uletta in un programma dedicato al grande romanticismo tedesco fra innovazione e scoperta da giovedì torna invece l'evento principe dell'estate di Carpegna ovvero la festa del prosciutto di Carpegna DOP fino a lunedì 21 luglio si susseguiranno giornate e serate all'insegna di cene degustazioni, talk show, concerti, trekking, raduni motociclistici e la domenica pomeriggio che sarà caratterizzata dalla sfida da Guinness dei Primati per realizzare un maxi panino al prosciutto lungo 100 metri e concludiamo il nostro telegiornale lasciandovi ad un ricco approfondimento sulla nuova settimana da capitale della cultura nel progetto 50x50 capitale al quadrato di Pesaro 2024 è infatti il turno di Monbaroccio è arrivata anche per Monbaroccio la settimana della cultura nel percorso 50x50 ringrazio naturalmente il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini che si è prodigato affinché questo percorso avvenisse su tutto il territorio provinciale un grande lustro anche per i piccoli borghi che ho l'onore di rappresentare anche quest'oggi e come vedete siamo nella piazza di Monbaroccio piazza Barocci che abbiamo deciso di allestire e stiamo continuando ad allestire ad Aia proprio perché volevamo recuperare nelle nostre tradizioni la civiltà contadina espressa nel nostro museo della civiltà contadina sottostante e nonché l'arte del ricamo fatto da queste magnifiche signore del territorio che raccontano le tradizioni tramite le loro mani e a questo si aggiungeranno tutti i percorsi della nostra enogastronomia della nostra valorizzazione della neurologia e di tutto quello che è l'affiatamento che si è creato intorno a questo percorso tutte le associazioni del territorio tutti i volontari tutte le associazioni di categoria che sono presenti in questa settimana nonché tutte le attività del territorio si sono legate affinché Monbaroccio potesse arrivare ad essere un punto d'eccellenza di questa provincia almeno per questa settimana e non solo nella promenade che arriva in piazza abbiamo allestito una serie di immagini che riguardano la storia del museo del ricamo che è uno degli emblemi della cittadina e quindi con il fotografo Silvano Bacciardi che è un carissimo amico con il quale spesso mi trovo a collaborare insomma abbiamo realizzato queste immagini e le abbiamo allestite lungo la via portiamo avanti questa tradizione del ricamo che qui da Monbaroccio è attivata dal 1400 facciamo diverse tecniche, filet su rete, chiacchierino, macramè, uncinetto, sfilature, tulle e tante altre tecniche che richiede il ricamo, ricamo classico, insomma tutte le varie attività lavoriamo in particolar modo nei tessuti antichi quelli proprio tessuti dalle nostre nonne e bisnonne perché comunque sono dei bellissimi tessuti sia di consistenza sia di morbidezza sia pochino difficili da lavorare però comunque diciamo che riusciamo in qualche modo o ricamarli o sfilarli o applicare qualche inserto di quello che poi è di più prezioso che è appunto un personaggio che caratterizza la storia di questo piccolo paese che è Guido Baldo del Monte scienziato importantissimo nella storia di questo territorio anche perché oltre a Guido Baldo Monbaroccio ha avuto la possibilità di incontrare tre famiglie importanti, la storia lo racconta quindi la famosa famiglia dei Malatesta, degli Sforza e dei Della Rovere poi Ciciro Pavisa qua al Museo della Chiesa di San Marco altro personaggio significativo del Novecento un grandissimo disegnatore e pittore nato a Monbaroccio legatissimo a questo paese e con la famiglia abbiamo costruito un rapporto a tal punto che siamo riusciti a realizzare questo piccolo museo dove ci sono le opere più significative di questo grande pittore e disegnatore speriamo che la gente venga numerosa proprio perché è una manifestazione che deve servire a sviluppare ad attirare persone e quindi anche perché abbiamo tante anche le economie locali abbiamo tanti ristoratori ci sarà anche la cena itinerante dove i ristoratori della zona porteranno ovviamente i loro prodotti ci sarà trekking, ci sarà anche concerti c'è un po' di tutto anche a Beato Sante che è un altro bellissimo posto il nostro punto di partenza sulla cultura parte da oggi chiaro che dovrà solo essere un punto di partenza perché quello che Monbaroccio avrà da dare dovrà dare da oggi in avanti alzando la sticella ogni giorno perché Pesor Urbino è la regione Marche che oggi unita tramite i prodotti DOP siamo stati con Fioravanti questa mattina per la raccolta dell'oliva da Scolana che abbiamo portato e questo pomeriggio sarà legata al DOP di Cartoceto appunto questa provincia possa elevarsi in termini culturali quanto più possibile per dare una risposta a un territorio che ogni giorno chiede di alzare la sticella e Monbaroccio è pronto a farlo una bella opportunità per vivere attraverso 5 mostre attraverso un ottimo percorso enocastronomico che fa leva naturalmente anche sul fatto che è una delle aree fondamentalmente della DOP di Cartoceto e tanti altri elementi a partire appunto dalla pittura dalla poesia, dalla musica che vengono riproposti in questa settimana per una settimana da capitale che contribuisce in maniera importante a quello che è il nostro disegno di fare in modo che la forza di questa programmazione e dei legami che si sono attivati possano essere alla base del nuovo dossier dopo la capitale della cultura per tentare la corsa capitale europea della cultura 2033 tutti assieme e con questo ricco approfondimento sulla settimana da capitale della cultura di Monbaroccio si chiude il nostro telegiornale Rossini News prima di salutarci come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti informativi sulla nostra emittente a cominciare da quello che arriva in prima serata alle 21 e 20 uno speciale realizzato dal nostro Antonio Astuti nella Camera di Commercio delle Marche che promuove due bandi legati al territorio regionale il bando Borghi e il bando Transizione Ecologica vedremo di cosa si tratta questa sera dalle 21 e 20 altro approfondimento è quello legato a Plan Studio Master Arredo 5.0 Plus orienta il tuo futuro approfondimento realizzato da Teobaldo Bianchini che vi trasmetteremo alle 21 e 40 e proprio il nostro Teobaldo Bianchini vi terrà accompagnare anche domattina con la rassegna stampa dei quotidiani locali come sempre in diretta a partire dalle 7 e 20 serata invece di mercoledì 17 luglio serata di domani che sarà all'insegna di una nuova puntata di Amministrando dedicata ai nuovi sindaci parleremo di Palmiero Ucchielli che nuovo sindaco non è ma è confermato per il terzo mandato a primo cittadino di Vallefoglia tanti argomenti che verranno trattati a partire dalle 21 e 20 ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento in compagnia dei programmi di Rossini TV e vi ringrazio per averci seguito